ciao a tutti oggi vi voglio fare la mia skin care serale con i prodotti di bios e questi prodotti arrivano direttamente dal sana 2019 quando sono andata a trovare daniela la titolare di bios che mi ha omaggiata della box che vedete in questo momento che contiene quattro prodotti che lei ha scelto in base al tipologia della mia pelle la base dei prodotti della linea acqua terme che quella che sto provando proprio ora e l'acqua sorgiva iper termale delle fonti di viterbo l'acqua termale è idratante lenitiva rinfrescante e analergica quindi adatta a tutti i tipi di pelle viene consigliata anche in caso di dermatiti e ipersensibilità il siero si presenta come un gel piuttosto acquoso di colore giallo chiaro trasparente con un profumo dolce ma delicato la consistenza è molto liquida ed è leggera quindi si assorbe velocemente senza massaggi prolungati anche la crema ha la stessa consistenza acquosa e gelosa del siero ed è molto facile da stendere perché si assorbe immediatamente come potete vedere i due prodotti usati insieme lasciano una pelle molto fresca una sensazione leggera per niente pesante io direi che è molto adatta per questa stagione estiva l'acqua sorgiva eper termale è un'acqua lenitiva rinfrescante ed energezzante ed è utile per molte occasioni innanzitutto per essere spruzzata sul viso accaldato dal sole o come nel mio caso quando avevo la febbre è adatta per bagnare i pennelli quando si applicano gli ombretti wet and dry si può usare come fissatore del make up inoltre è perfetta anche per i nostri uomini perché dopo la rasatura in caso di arrossamenti irritazioni aiuta a lenire la pelle l'olio illuminante invece è un olio molto leggero che si assorbe subito senza lasciare la pelle unita e ha un profumo meraviglioso buono dolce ma non invadente quest'olio comunque si può usare sia sul viso che sui capelli che sul corpo e daniela mi ha consigliato di usare quest'olio prima bagnando la pelle con l'acqua ipertermale e poi appunto applicandolo quindi creando una leggera emulsione che si assorbe immediatamente e questo è tutto ricordandovi che ho scritto una recensione completa e dettagliata di questi prodotti sul mio blog vi aspetto alla prossima